è ovvio che scopriremo poi strada facendo il livello anche delle altre squadre per il momento veniamo da due mesi fatti molto bene il gruppo è cresciuto bene assieme tecnicamente anche a livello di compattezza di squadra vediamo poi di domenica in domenica il livello delle altre squadre e capiremo qualcosa in più strada facendo una squadra che ha reagito molto bene alle sollecitazioni fisiche il lavoro tecnico e il lavoro fisico e siamo arrivati con una discreta preparazione nelle gambe nella testa a questo esordio in campionato anche se anche in coppa l'esordio in coppa non è stato affatto male pesca il jolly il prestito che sappare tutto ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.